Dopo la vittoria ottenuta fuori dal campo dai Seat of Lions, capaci di coinvolgere tutto quanto lo sport piacentino nella brillante iniziativa benefica di Movember, i Leoni Bianconeri vanno a caccia del pieno di punti domani al Beltrametti. Sarà Udine l'avversario da battere, formazione quella friulana, ampiamente alla portata, che veleggia nelle zone basse della graduatoria con 9 punti. Gli uomini di Rolleston e Mozzani invece, su un campo che si annuncia da battaglia a causa della pioggia caduta copiosa, vogliono riprendere la corsa dopo il deludente pareggio di Firenze. Ci si affiderà, come ovvio, al talento puro di Aristide Barro, che nei turni precedenti ha letteralmente strabiliato con i suoi calci infallibili, condite pure da alcune mete decisive. Capitan Matteo Rossi fissa l'obiettivo. È quello di rifarci da una brutta domenica a quella passata e sicuramente fare bene. Uno per il campionato e due anche per il morale. Per Rossi e Sochi si tratta di un appuntamento da non fallire, visti anche gli scontri casalinghi piuttosto agevoli che attendono le tre formazioni di testa che precedono il Sita. Tornando alla sfida con Udine, i Lions indosseranno una particolare maglia disegnata per l'occasione, che sarà battuta all'asta, del prossimo 23 novembre, assieme ad altre divise cimeli sportivi recuperati proprio grazie al grande impegno dei ragazzi del presidente Natalino Fanzola.